Sì, lo dico. Ecco, anch'io quando non lavoro guardo l'opinione di Luzio. Poi ce lo fai in alba...allora. Anch'io quando non lavoro guardo l'opinione di Luzio. Brava. Luzio, ti adoro. Bellissimo, guarda. Anch'io quando non lavoro... Guardo l'opinione di Luzio. Non ho capito un gran che vera. Mi fido. È difficile, però devi cercare di essere seria. Questa è brutta. Sto facendo un cooperativo... Ah, beh, è vero. E' brutta, è brutta. Sto facendo un altro caffè. Non so dire, 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 no. No, no, ce l'ha fatta, ce l'ha fatta. Questo è il next stage. Cosa ridi? Cosa c'è da ridere? Anche se ridi è uguale. Riprende anche con Luzio. Oddio, ho sudato. Anch'io quando non lavoro vedo... Ah, ecco è. Questa è proprio... E' gli errori, capitale. Opinione di Luzio 30 prima. Ok. Anch'io quando non lavoro vedo l'opinione di Luzio. Ciao Luzio. Grazie. Bello, come lo vuoi? Che mia? Aspetta, perché sto pensando in una cattiveia. Adon, con un buonai sciopo pignoli nel Luzio. Non ho capito un granché. Non me ne prendo un cavolo. Con un ca un occhio. Non ho capito.